Senza una condizione di sicurezza, perdiamo tempo. Tutto il resto diventa impossibile. Abbiamo bisogno di avere forze dell'ordine e anche forze attrezzate dell'esercito presenti in strada per fare il lavoro di contrasto agli spagnoli, credo che abbia avuto un'attività. Senza questo intervento, credo che abbia avuto un po' quindi aspetteremo nelle prossime settimane di verificare quali sono le misure che prende il governo nazionale da un'economia strada, non c'è un'acqua, senza una condizione di sicurezza. Abbiamo bisogno di avere forze dell'ordine e anche forze attrezzate dell'esercito presenti in strada per fare il lavoro di contrasto agli spagnoli, ai delinquenti, ai camorristi, ma anche per dare... credo che abbia avuto un po' quindi aspetteremo nelle prossime settimane di verificare quali sono le misure che prende il governo nazionale dal punto di vista, dal punto di vista della sicurezza, a che non... alle sicure persone che voglio voler vivere senza questo intervento della sicurezza, a che non... alla sicurezza, a che non... ndr. alla sicurezza, a quei bambini, alle famiglie... alla sicurezza, ai cittadini o nelle famiglie... alla sicurezza, ai cittadini o nelle famiglie... allarilla... Ok